Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Qual è la scritta che tra poco apparirà su questo cartellone bianco? Che il 21 marzo, giornata nazionale della memoria e dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti delle mafie, in Campania si farà nel 2019 qui ad Avellino. Quindi sarà la nostra città ad ospitare tutte le altre province e a marciare in questa splendida città con tutti i familiari campani delle vittime innocenti delle mafie. Vittime delle mafie che sono anche gli ex operai dell'isochimica, hai ribadito ad alta voce questo concetto stamani. Sì, assolutamente. Io penso che oggi una riflessione profonda la si debba fare su che cosa significhi combattere la criminalità organizzata. Libera lo dice da tempo, che mafia oggi significa povertà, mafia oggi significa corruzione. La vicenda dell'isochimica è una vicenda assolutamente preoccupante, assolutamente drammatica per la nostra provincia perché ci consegna non solo una situazione che potremmo definire banalmente illecita, ma un sistema complesso di corruttele, di omissioni e di illegalità che ha prodotto e sta producendo numerose vittime di amianto. Purtroppo, io lo dico e lo dicevo ieri anche a Nicola, a distanza di 30 anni cominciamo oggi a fare i conti con le vittime perché non sono terminate qui, purtroppo. Continueranno a venirne fuori altre e noi anche per loro resteremo al fianco degli operai. Ci sarà giustizia, Emilia, e dove, visto che il processo comunque al momento si tiene nell'aula bunker a Napoli? Beh, diciamo che noi siamo sempre al fianco delle forze dell'ordine della magistratura che in questo momento stanno facendo un lavoro particolarmente complesso. Credo che anche i rappresentanti della nostra magistratura abbiano la voglia di poter celebrare questo processo qui in questa città, ma purtroppo, come tutti sappiamo, questo processo ha dovuto subire questo trasferimento. Per noi verità e giustizia non significa solo verità processuale ed è il motivo per cui noi continuiamo a gridare con forza il bisogno di giustizia per questa vicenda e lo facciamo a partire da quello che sappiamo fare meglio, da quello che è, diciamo, il tratto distintivo della nostra associazione, affiancare le vittime innocenti. E in questo caso le persone offese, non solo giuridicamente parlando, sono gli operai ma sono tutti coloro che, anche se non abbiamo incrociato, vivono quel quartiere. E io dico anche tutti noi che abitiamo al centro di Avellino perché non è vero che quel quartiere è lontano da noi, quel quartiere in linea d'aria ci interessa e ci interessa anche in maniera importante.